Vincenzo eh lavoro in agricoltura come agronomo in particolare in agricoltura biologica e vengo dalla Lucania proprio da quei luoghi che descriveva Carlo Levi in Cristo si è fermato a deboli eh io vivo tra l'altro in un paese grassano dove lui ha abitato durante l'esilio do prima di andare ad Aliano nella Val d'Agri oggi proprietà delle multinazionali del petrolio e voglio partire proprio da da Carlo Levi nel senso che lui descrive nel suo libro eh diciamo la società rurale eh di quel tempo eh la vita eh grama eh diciamo dei contadini dei braccianti molto è cambiato da allora eh in agricoltura eh cosa è successo sinteticamente e questo ce lo confermano anche i dati dell'ultimo censimento eh istat sull'agricoltura un censimento che prende in esame il periodo dal duemila e dieci a duemila e venti molto è accaduto ma sintetizzando io penso che quello che è accaduto si può eh diciamo eh dire eh c'è stato e c'è e continua ad esserci una una trasformazione dell'agricoltura contadina nell'agricoltura capitalista cosa significa questo? Significa espulsione eh di tantissime eh aziende di piccole aziende eh dalla eh diciamo da dall'agricoltura eh nonostante tutto ancora oggi la maggior parte delle aziende agricole in Italia la maggior parte della superficie agricola in Italia è gestita da aziende con meno di dieci ettari e però sono proprio queste che sono interessate dalla riduzione mentre aumentano le grandi aziende quindi concentrazione del capitale fondiario della terra dei mezzi di produzione nelle mani di eh pochi che dispongono delle risorse eh per la produzione è successo quello che è stato chiamato eh quindi nell'arco diciamo dal dopoguerra ad oggi è successo quanto non è successo dall'origine dell'agricoltura l'agricoltura comincia diecimila anni fa con la domesticazione del grano degli animali eccetera ed è andata avanti in maniera quasi diciamo senza grandi stravolgimenti fino al dopoguerra nel dopoguerra entra la rivoluzione verde i pesticidi il cartello dei veleni che aveva prodotto i veleni utilizzati nelle guerre si è riciclato producendo veleni per combattere eh i i diciamo le patologie gli insetti in agricoltura si è riciclato producendo eh diciamo quello che veniva utilizzato per produrre esplosivi come il nitrato è diventato concime per il terreno distruggendo la fertilità del terreno interpretando in questo modo la logica del capitalismo che guarda la terra come un supporto morto da cui estrarre eh diciamo ricchezza la rivoluzione alla rivoluzione verde nel giro di pochissimo tempo si si aggiunge la rivoluzione biotecnologica quindi gli OGM gli organismi geneticamente modificati con i quali il capitale addirittura si appropria eh diciamo della conoscenza dell'intelligenza della vita coltivata da generazione e generazione di agricoltori arrivando ad inventare addirittura semi che eh non possono neanche essere riprodotti dall'agricoltore che contengono dei geni che non consentono la la riproduzione per cui devono essere continuamente comprate ma la rivoluzione biotecnologica si è aggiunta la finanziarizzazione della produzione dell'agricoltura della produzione del cibo oggi le borse scommettono perché è aumentato il prezzo per il problema della guerra sicuramente ma anche per la speculazione oggi le borse scommettono sulla eh penuria di cibo dovuta anche alla guerra e quindi i prezzi aumentano ma oggi siamo al punto della digitalizzazione come si sta facendo nell'industria si fa anche in agricoltura eh ancora una volta espropriando le piccole aziende non in possesso di capitali per dotarsi di macchine senza eh guidatore o di eh quindi di big data entrano la multinazionale delle dei dati entrano anche in agricoltura per estrarre anche qui eh valore e ehm e tutto questo che comporta comporta tutta una serie di problemi che vanno contro gli interessi degli agricoltori legati alla terra contro l'interesse generale delle comunità che ricevono il cibo e i servizi ecologici dell'agricoltura e questo significa desertificazione questo significa lavoro servile noi ricordiamo quello che succedeva ai tempi di Levi la gente che andava a lavorare in campagna eh per qualche chilo di grano o per qualche litro di olio al giorno e oggi eh cosa succede ai ai migranti eh che vivono in condizioni che non si possono dire civili e sotto lo schiaffo del caporalato e quindi tutta questa diciamo avanzamento tecnologico dell'agricoltura certamente non ha risolto il problema dello sfruttamento del lavoro in agricoltura ma tutto questo significa anche cibo spazzatura significa falso cibo significa un'agricoltura cioè un capitale che ha in mente un' agricoltura senza agricoltori un capitale che ha in mente un cibo dove quello che viene prodotto nei campi è solo una materia prima da trasformare in maniera da rendere addirittura irriconoscibile nell'industria eh alimentare in maniera che da quella poi divenda appunto e qui la contraddizione capitale vita no? In agricoltura si vede benissimo significa quindi consumo di suolo significa eh insomma tutta una serie di processi che vanno appunto contro gli interessi dell'umanità delle comunità che vivono sui territori eh oggi io penso che eh la politica la politica che noi vogliamo per eh guidare la trasformazione del sud eh non significa tornare indietro al agricoltura contadina ma significa andare avanti verso una nuova agricoltura contadina. Pensate a quanti territori oggi abbandonati nelle aree interne del sud potrebbero essere rivitalizzati dalla eh ritorno eh alla terra. Io vengo da una zona dove per millenni la gente ha vissuto, ha praticato la sovranità alimentare, è stata in grado di produrre quello di cui aveva bisogno e sono oggi paesi in cui non c'è più un mulino, non c'è più eh un un mulino dove macinare il grano, produrre la farina perché ci hanno insegnato che bastava andare al supermercato a comprare la roba al minor prezzo possibile, la roba che veniva dai mercati, dai territori dove il cibo era ottenibile al minor prezzo possibile, al minor salario possibile, col più alto sfruttamento del lavoro possibile. Ebbene questo mito eh è stato infranto credo io perché oggi anche la globalizzazione è in discussione. Oggi non è più possibile aspettare la nave di turno che viene a scaricare così facilmente a a Bari il grano perché abbiamo problemi eh per la pandemia che ha disarticolato la catena eh diciamo di rifornimento globale, abbiamo i problemi delle navi bloccate dalla guerra, ma abbiamo i problemi della crisi climatica, il prezzo del grano non è aumentato oggi, è aumentato nell'autunno del duemila e ventuno quando la metà della produzione di grano che si aspettava dal Canada è venuta meno a causa della siccità e quindi abbiamo bisogno di tornare a un'agricoltura contadina basata sulla conversione agroecologica, sulla sovranità alimentare, su una giusta sulla terra ai lavoratori e su un giusto reddito per i lavoratori. Una politica per il mezzogiorno non può fare a meno di una politica agricola. Grazie. Grazie.